Viaggio al centro della Terra, capitolo diciottesimo. Il giorno successivo, giovedì 27 agosto, fu una delle date più importanti del nostro viaggio sotterraneo. Da quel momento la nostra intelligenza e il nostro buonsenso non contarono più nulla perché fummo in completa balia dei fenomeni naturali della Terra. Fu io ad appiccare il fuoco alla mina. Subito dopo raggiunsi i miei compagni sulla zatter e ci allontanammo dalla riva in attesa dell'esplosione. Il boato fu fortissimo, ma l'esplosione non distrusse soltanto il macigno che ci ostacolava al percorso. Scosse l'intera caverna e sulla riva si spalancò una profonda voragine. Il mare vi precipitò dentro, trasformandosi in un torrente e trascinando la zattera con sé. Stavamo percorrendo la strada di Saknunsem, su questo non c'era dubbio, ma con l'esplosione ci eravamo trascinati con noi l'intero mare. Quella discesa vertiginosa durò per un tempo lunghissimo e in questo tempo mi accorsi che tutto il carico della zattera era andato perduto e delle nostre provviste non rimaneva che un pezzo di carne secca e qualche galletta. Anche se stavamo in una situazione disperata, quella scoperta mi atterrì. Forse avevamo solo una probabilità su un milione di salvarci, ma la mancanza di cibo mi dava la certezza che non avevamo scampo. Di colpo, dopo un tempo che non saprei misurare, con un forte urto la nostra caduta si arrestò. Poco dopo sentì mio zio che sussurrava, stiamo risalendo. Mi sembrava impossibile ma era proprio così. L'acqua del mare, giunta in fondo all'abisso, stava riprendendo il suo livello e ci portava in alto come il guscio di una noce in una bacinella che si riempie piano piano. Hans accese la sua torcia e illuminò lo stretto pozzo verticale nel quale eravamo capitati. E se questa cavità è chiusa in cima? Chiesi preoccupato. Moriremo affogati. Axel, la nostra situazione è quasi disperata, ma abbiamo ancora una o due probabilità di salvezza. Mettiamoci in grado di approfittare della minima possibilità. Il professore aveva parlato con grande calma. E cosa dovremmo fare? Mangiare. Mangiare, ecco tutto quello che resta delle nostre provviste, disse avvelito, mostrando il pezzo di carne secca e le gallette. Pensi ancora che abbiamo qualche probabilità di salvarci? Il professore non rispose. Passò ancora qualche ora e nel frattempo la temperatura era aumentata enormemente. Se non finiamo annegati e se non moriremo di fame ci resta sempre la possibilità di entrare in fusione, osservai amaramente. Neanche questa volta il professore rispose. Trascorso un'altra ora e la temperatura era ancora aumentata. Basta, bisogna decidere qualcosa, disse lo zio rompendo il silenzio. E cosa possiamo decidere? Di mangiare, ad esempio? Dobbiamo essere in forze. E una volta mangiate queste poche cose, cos'altro potrà tenerci in forze? Niente, Axel, ma finché il cuore batte e i polmoni respirano non ammetto che ci si abbandoni alla disperazione. Mangiamo. E così consumammo quello che di certo sarebbe stato il nostro ultimo pasto che accompagnammo con qualche sorso di jeans, di jeans che Hans aveva trovato nella borraccia. Erano le 5 del mattino e continuavamo a salire, ma anche la temperatura saliva. Guardai la bussola, sembrava impazzita, le pareti di roccia iniziarono a vibrare e la galleria si riempì di vapore. Zio, siamo perduti. Che c'è, Axel? Non riconosci i segni di un terremoto? No, Axel, non si tratta di un terremoto. Siamo nel cratere di un volcano attivo. Tra poco ci sarà un'eruzione. La cosa migliore è che potesse capitarci. Ma come? Stiamo per essere espulsi, lanciati in aria come la pilli tra cenere e fiamme e tu dici che non poteva accaderci niente di meglio? Sì, rispose guardandomi al di sopra dei suoi occhiali, perché è il solo mezzo che abbiamo per ritornare sulla superficie della terra. Mio zio aveva ragione, ammirai la calma e il coraggio con cui valutava la possibilità di ritornare sulla terra in quel modo stupefacente. La notte trascorse così, continuando a salire, mentre il fracasso intorno a noi si faceva sempre più forte. Intorno alle 8 del mattino il movimento della lava sotto di noi cessò improvvisamente e la zattera restò immobile. Che succede? Niente, solo una pausa. Mio zio aveva avuto ancora una volta ragione, perché dopo qualche minuto ricominciamo a salire e poi di nuovo ci fermammo. Non so dire per quante volte andammo avanti tra soste riprese. Alla fine si udì un fragore potentissimo. Le pareti della galleria furono scosse da un tremite e la nostra zattera fu travolta da un'onda di fiamme e ceneri. Dovetti chiudere gli occhi per non essere accecato da una luce intensa e calda e poco dopo senti una spinta fortissima alle mie spalle e, come una palla di cannone, fui scaraventato in aria a folle velocità.